Ciao a tutti, oggi prepareremo i moscardini al pomodoro. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono moscardini, salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro, aglio, vino bianco, olio evo, prezzemolo, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed azionare il bimbi per quattro minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere i moscardini ed azionare il bimbi per cinque minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco ed azionare il bimbi per 6 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il concentrato di pomodoro, la salsa di pomodoro, la salsa di pomodoro, il sale, il pepe ed il prezzemolo tritato. Ed azionare il bimbi per 30 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. I moscardini sono pronti, impiattare e servire. Moscardini al pomodoro, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!